In attesa della nuova legge regionale di settore, annunciata da tempo ma non ancora varata, il ciclo dei rifiuti in Campania attraversa un momento di assoluta incertezza. Il 30 giugno tutta la gestione del ciclo dovrebbe passare in capo ai comuni, ma non è esclusa un'ulteriore proroga dallo Stato attuale. Se così fosse, non ci sarà fino al dicembre di quest'anno alcuno scioglimento delle società provinciali che continuerebbero ad operare nella gestione dell'impiantistica in regime transitorio. I comuni dal canto loro andrebbero avanti nella conduzione autonoma e dei servizi di raccolta e spazzamento. Nel piano di riordino del ciclo dei rifiuti la gestione verrebbe affidata a enti intercomunali denominati sistemi territoriali operativi, in capo ai quali, con funzioni di coordinamento e controllo, ci sarà un'autorità d'ambito regionale. Ma tutto questo resta ancora sulla carta. Il parlamentare salernitano Michele Ragosta ha presentato un'interrogazione ai ministri competenti per chiedere chiarimenti sulla situazione. Nella sede di SEL questa mattina c'era con Ragosta anche l'assessore all'ambiente del comune di Salerno, Gerardo Calabrese. Ragosta ha chiesto le dimissioni dei quattro commissari regionali ed ha definito l'assessore regionale romano il nulla assoluto. La proroga, se deve significare quello che è successo in questi anni, cioè nulla, solo l'aggravarsi di una situazione. Teniamo i lavoratori che hanno preso l'ultimo stipendio relativo al mese di marzo, l'incertezza su come affrontare il futuro, superate l'esperienza dei consorzi. Quindi se la proroga deve significare il prolungarsi di una lunga agonia, noi siamo contro qualsiasi proroga e siamo che il 30 giugno ognuno viene messo di fronte alle proprie responsabilità a partire dalla regione Campania che non ha ancora legiferato in materia di rifiuti e quindi di affrontare complessivamente con i comuni in che direzione si vuole andare. Io credo che i commissari si devono dimettere perché hanno fallito nel loro compito quello di mettere in liquidazione i consorzi, di interloquire con i comuni in modo costruttivo per capire in che modo doveva avvenire il superamento dei consorzi. Quindi si sono trasformati in galoppini politici, alcuni di loro sono stati candidati alla Camera e al Senato anche nell'ultima tornata elettorale, si limita a fare una politica di gestione che non gli compete e quindi è stato prodotto anche qui una denuncia alla Corte dei Conti per capire le spese che stanno allegramente facendo in questi mesi ai danni degli stipendi dei lavoratori.